Questo video riguarda i migliori 3 maniglie per flessioni. Il vincitore della qualità nel nostro maniglie per flessioni va al pull up dop maniglie. Basta dolori al polso per la torsione innaturale dei polsi. Queste maniglie ergonomiche in legno di faggio sono perfette per le tue mani, con un grip neutro, proteggono i polsi ed hanno una presa perfetta rispetto a quelle sottili in acciaio o plastica, anche con le mani bagnate. Allenati in tutta sicurezza. Ci affidiamo in tutta coscienza a legno e acciaio di alta qualità invece che a plastica economica. Diciamo no alle maniglie in spugna dal cattivo odore per il sudore, preferiamo maniglie in legno di alta qualità. Grazie alle nostre maniglie da push up, potrai allenare specificamente la parte alta del corpo e costruire petto, spalle e tricipiti. Estendi l'ampiezza del tuo movimento e offri un allenamento in più, grazie all'aumento del movimento discendente. Già montate e pronte all'uso. Queste maniglie per flessioni si possono spostare in modo indipendente e permettono un esercizio molto versatile. Sono ideali per tutti i tipi di flessioni e push up, corte, ampie, a un braccio o anche in verticale. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Reader push up. La base antiscivolo ti impedisce di muoverti o di crollare mentre fai esercizi. Queste barre per flessioni di alta qualità e ben costruite ti forniranno un allenamento di forza brucia grassi. Le maniglie resistenti e confortevoli offrono un supporto duraturo. Utilizzando le barre per flessioni, l'esercizio della parte superiore del corpo può essere allenato in modo efficace. Le nostre barre per flessioni hanno un'impugnatura in schiuma imbottita, che aiuta a ridurre lo sforzo sui polsi, aiutandoti a eseguire flessioni più efficaci senza dolore al polso. Attrezzatura per il fitness portatile e leggera. Perfetta per le flessioni a casa, in palestra, in ufficio o in viaggio. Mettili nella borsa e sei a posto. Il vincitore della performance premium nel maniglie per flessioni è il Song Mix Mangilie. Il tubo in acciaio cromato è robusto e promette una buona resistenza. I manici sono rivestiti con schiuma ad alta densità, assorbono il sudore, sono facili da afferrare sul pavimento e antiscivolo. I piedi sono come un pezzo AT, che viene inserito nelle estremità del U. In questa struttura, le maniglie per flessioni non si inclinano facilmente, sono migliori per i principianti, prevengono lesioni durante l'allenamento. Riduce la pressione su mani, polsi e gomiti durante l'esecuzione delle flessioni. Consentono un movimento migliore e prolungato e aumentano così l'effetto di allenamento, poiché più muscoli vengono sollecitati allo stesso tempo su braccia, spalle, schiena e petto. Rimovibile. Occupa solo poco spazio per portarlo con sé. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.